È arrivato il momento anche per il Comune di Pescara di istituire il Disability Manager? Sì, una figura nuova nel mondo delle istituzioni a tenere le problematiche dei disabili all'interno della città. Quindi una figura tecnica non politica che deve individuare tutte le problematiche all'interno della città in base alla segnaletica, in base agli ostacoli e quindi rendere una vita accessibile e diversamente abili. A partire da Palazzo di Città? A partire da Palazzo di Città, infatti, sarà il primo punto ad essere oggetto dell'intervento. La mozione quando in Consiglio? La mozione nei prossimi giorni dovrebbe già arrivare in Consiglio Comunale. Secondo la programmazione adesso inizieremo la fase del bilancio. Comunque nel giro di un mese dovrebbe venire sottoposto al voto del Consiglio Comunale. Un'animità di intenti? Penso di sì. È un problema così grande e poi di interesse sociale che non dovrebbe trovare ostacoli. È una contrapposizione.